fabio spagnuolo conoscere online non mi è mai piaciuto ma devo dire di aver usato questa modalità negli ultimi anni ora le donne hanno troppa validazione gratis e poco tese nel compito dell'investire loro stesse tornare dal vivo o ci sono soluzioni per l'online allora fabio l'online ti mette in una situazione di svantaggio ok quindi al di là di tutto quello che si dica ok l'online è facile ormai siamo nell'epoca dell'online ma rimarrà sempre il dubbio nella donna che la domanda che si farà la donna quando tu conosci una donna online è ma tu avresti mai avuto il coraggio di approcciarmi dal vivo avresti mai avuto il coraggio se non ci fosse stato un programma come tinder instagram tiktok e queste cose che ci facilitano la connessione avresti mai avuto le palle di di approcciarmi dal vivo questo però che cosa vuol dire che dobbiamo anche guardare il discorso offline perché la soluzione non è adesso con una frase del genere sembra quasi che online no e offline si attenzione offline c'è anche qua una pecca cioè che se fatto come ti insegnano là fuori ti mette in una situazione di svantaggio perché perché trassudi che hai bisogno di una donna ok quindi se tu mi metti sul piatto meglio online meglio offline e dipende dipende online lo sconsiglio ma anche in questo caso perché inutile che andate a richiedere amicizie chattate con persone a caso c'è stato un ragazzo in consulenza che mi ha detto che ha conosciuto questa ragazza a caso io non ci credo però lui come me l'ha raccontato infatti glielo ho detto che non ci credo si è sbagliato profilo poi iniziate a chattare con questa va bene ok ti ringrazio ok ciao ciao ti saluto insomma però sai che una stronzata lo sai benissimo infatti in quella consulenza abbiamo tirato fuori molte cazzate che mi ha raccontato e poi si arriva ragazzi quando venite in consulenza veramente non venite con 12 maschere uno perché ve le distruggo subito perché una maschera poi comporta una risposta io poi mi ricordo tutto e vi faccio quelle domande che vi mettono in crisi anche perché cominciate a arrampicarvi sugli specchi e poi non ci saltate fuori sprecate tempo e non ottenete risultati quindi veramente via la maschera tanto comunque di casi mi vedo giornalmente ed è meglio che non ve la mettiato cioè non è che dovete fare la gara di chi è bifurbo semplicemente prendete per il culo voi stessi quindi vedete un po voi come sfruttare le consulenze con me stavo dicendo l'offline invece ti mette se lo fai come insomma per intenderci da corso di approccio ok ti mette in svantaggio proprio perché tra sudi che hai bisogno di una donna mi è capitato di recente di vedere un video dove proprio viene insegnato ok cioè viene detta questa cosa che approcciare le donne avere più appuntamenti possibili deve diventare il tuo nuovo lavoro e si mette a confronto il come tu mandi curriculum dovresti fare e ti migliori per ottenere il lavoro successo così dovresti fare anche così con il mondo degli appuntamenti in modo da avere più soluzioni possibili appuntamenti possibile e quindi deve essere un lavoro no ragazzi c'è già soltanto questa è una follia perché allora essere focalizzati sull'ottenimento del successo in ambito lavorativo e avere un focus un drive dovete capire che quello è un ottenimento di risorse ok le donne sono attratte da dall'uomo che è capace di ottenere risorse con le donne no la risorsa che ottenete imparando ad approcciare le donne qual è la donna è una donna che cosa se ne fa di un uomo che è capace di ottenere una donna arriverà un punto in cui vorrà capire a che cosa gli servite le donne amano in maniera lo sapete perché se mi seguite lo sapete opportunistica non idealistica quindi una donna che si vede approcciata da un uomo dovrà capire a che cosa gli servi e quindi lo farà con il test lo farà mettendo in crisi lo farà cercando tutte quelle prove per capire se voi siete quella persona che fa per lei o no ma fa per lei in che in che termini in termini di riproduzione in termini di sicurezza in termini di tante cose che comunque ho già spiegato ok quindi veramente se trassudate che avete bisogno di una donna e quindi fate l'errore di dire ok mi alleno e esco con più donne al giorno come e fate questo raffronto come dovrebbe diventare un lavoro il pensiero di una donna è ok mentre lui si impegna tanto nel in questa cosa perché ripeto la la comunicate che siete una persona esperta ok è quasi più attraente ragazzi un uomo non esperto di donne non esperto di approccio perché perché ha passato il suo tempo a procurarsi le risorse necessarie per ottenere successo lavorare sul suo miglioramento proprio in in termini di di focus in termini di drive in termini di obiettivi in termini di ottenere qualcosa nella vita ragazzi domanda voi in questo momento io questa cosa la dico in consulenza quando quando uno viene in consulenza da me io faccio questa domanda quando quando si parla anche di di no contact soprattutto però ormai siamo arrivati a un punto che no contact voi approcciate il mio corso con l'idea che vi dicono la forza il no contact serve per quello che ho voluto fare questa lezione ragazzi scrivetemi mi scrivetevi alla newsletter perché la lezione che faccio e al quale vi darò accesso darò accesso soltanto a chi iscritto alla newsletter non verrà mai pubblicata su youtube ecco la roba lì è un una lezione che faccio che ho già registrato di un'ora e un quarto più ci sarà vi potrete con cazzo la rotino vi potrete confrontare direttamente con me live ok quindi se siete interessati a farmi domande live visto che non do mai l'opportunità quello è il momento giusto ritornando al corso quello il corso che ho registrato che al quale vi darò accesso è proprio che faccio la distinzione tra il no contact come viene interpretato là fuori come viene purtroppo il nome è lo stesso ma se voi non capite questa cosa e non capite che se fate il no contact in un momento sbagliato in un modo sbagliato con un pensiero sbagliato su che cos'è il no contact finite nei guai eh finite nei guai ma non perché cazzo non so finite in galera denuncia anche perché ci potrebbe anche essere quel fatto lì e ne parlo in questo corso ma finite nei guai con la relazione perché magari lei si è allontanata proprio perché voleva stare con voi e purtroppo voi non capite questa cosa ok quindi veramente vi consiglio di entrare in a far parte della della mia newsletter e beccarvi questo questo questa lezione completamente gratuita ok quindi ritornando alla domanda di fabio che che lui mi dice torna dal vivo o ci sono soluzioni per l'online allora chiediamoci come mai la gente acquista corsi per imparare ad approcciare ok visto che ho detto che l'online non è una soluzione ottimale perché vi mette la macchia del ma tu avresti mai saputo approcciarmi dal vivo avresti mai avuto il coraggio e una donna è attratta dal coraggio ok cioè se voi approcciato una donna online e vi arriva domani uno che è capace di approcciarla dal vivo lui sarà sempre più interessante di voi è questo è un dato di fatto quindi avrete sempre perso tra quello tra quello e il approcciare di persona però c'è quest'altra cosa cioè come mai la gente acquista corsi per imparare ad approcciare perché non ha una donna e crede o almeno viene manipolata a credere che sia necessario migliorarsi con le donne per ottenere donne ok ma la domanda è sempre quella perché 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 un errore perché un errore ragazzi se voi ve la faccio capire praticamente è esattamente come migliorare voler migliorare le finanze quindi migliorare il proprio stato economico partendo da dal chiedere l'elemosina pensateci a questa cosa cioè io non ho una donna voglio migliorare per ottenere più donne quindi che cosa faccio vado ad approcciare donne faccio un corso di seduzione faccio un corso di approccio per te per averne tante quindi parto da un livello basso e sicuramente migliorerò pian piano ma ragazzi uno la vita va avanti è veloce voi invecchiate perché c'è un attimo è che passi un anno due che fate tanti appuntamenti del cazzo ve lo dico del cazzo perché alla base c'è innanzitutto voi che invece di concentrarvi sul vostro miglioramento personale che che voi ovviamente sbagliate a pensare pensate che il miglioramento personale sia il miglioramento con le donne ma il miglioramento personale è come ho detto prima arrivare a migliorare quelle parti che ci rendono attraenti e non ci rende attraenti essere bravi con le donne come ho detto prima ci sono persone che sono attraenti ma non sanno sedurre non sanno sedurre perché perché non hanno mai avuto l'opportunità però sono estremamente 30 per una donna ci sono vabbè non vorrei fare dei nomi ma ci sono persone che conoscete perché sono magari persone del cinema ok artisti così e loro su che cosa secondo voi hanno lavorato nella loro vita sulle proprie skill proprie skills oppure su approcciare donne eppure eppure essendo un attore essendo un musicista persone anche personaggi politici che cazzo non so personaggi qualsiasi cosa in cui loro sono i numeri 1 loro hanno lavorato su quelle skills su quelle qualità che gli hanno fatti diventare i numeri 1 in quello che sanno fare non nell'approcciare donne eppure sono attraenti no pensateci